Ciao, mi chiamo Giorgia e oggi ti dirò tutto quello che devi sapere su Slim 4Vit. Prima di acquistare effettivamente il prodotto, ho anche due avvertimenti molto importanti, quindi presta molta attenzione a quello che ho da dirti. La prima cosa che devi sapere su Slim 4Vit è questa. Fai attenzione al sito web da cui stai per acquistare Slim 4Vit, perché Slim 4Vit viene venduto solo sul sito web ufficiale. Per aiutarti, ho lasciato il link al sito web ufficiale qui sotto nella descrizione di questo video. Quindi cos'è Slim 4Vit e funziona davvero? E la risposta è sì, Slim 4Vit funziona. Dopo molti test di laboratorio, i ricercatori hanno identificato che esiste una formula naturale con ingredienti concentrati che fornisce un effetto persistente, perché agisce in modo completo. Quindi sì, puoi fidarti di questo prodotto. Ci sono molte persone che ottengono ottimi risultati con Slim 4Vit e puoi ottenere risultati anche tu. Tuttavia, devi tenere presente che ogni corpo reagirà in modo unico. Questo è un po' ovvio, ma te lo dico affinché tu sia realistico riguardo al tuo trattamento e alle tue aspettative. Inoltre, perché Slim 4Vit funzioni, è necessario prendere il trattamento sul serio. Devi assumerlo ogni singolo giorno, 25 gocce due volte al giorno. Altrimenti non vedrai grandi risultati e potresti sentirti un po' frustrato. Puoi vedere i risultati iniziali nel primo mese, ma la maggior parte delle persone ottiene risultati migliori dopo tre mesi di utilizzo di questo prodotto. Inoltre, è importante che tu sappia che Slim 4Vit non ha effetti collaterali, perché è naturale. Quindi, ho voluto registrare questo video prima per dirti di fare attenzione al sito web da cui stai per acquistare Slim 4Vit, e inoltre, se acquisti il prodotto. Segui esattamente il trattamento, prendilo sul serio. Ricorda di tenere presente che i tuoi risultati saranno molto diversi da quelli di altre persone, perché il tuo organismo agisce in modo molto unico. Spero davvero che questo video ti abbia aiutato, e spero anche che Slim 4Vit ti aiuti davvero molto a migliorare la tua vita e a godere di molti altri benefici che questo prodotto promuove.